Inizia a scoprire. Un credito per iniziare a spiegare. un vero paradiso terrestre. Red viene preso in giro da tutti fin da quando è piccolo a causa della sua rabbia incontrollabile. Chuck invece fa tutto molto velocemente e Bomb esplode ogni volta che si arrabbia. Un giorno approdano sull'isola i maiali verdi e i protagonisti dovranno fermarli prima che si impossessino delle uova della grande aquila. Gli invisibili vede come protagonista Richard Gere nei panni di George, un uomo che ha perso tutto. George vaga per New York alla ricerca di un posto dove andare e spesso dorme per strada o in un rifugio per senza tetto. Qui entra a contatto con una realtà che non conosceva, quella dei tanti emarginati della grande mela che vivono ai confini del mondo. Grazie all'amicizia con uno di loro George capisce che la vita è ancora molto da dargli. Conspiracy, la cospirazione, è un thriller che vede insieme al pacino Anthony Hopkins e Josh Duhamel. Ben, giovane avvocato molto ambizioso, è sposato con Charlotte. Una notte però cede all'avance della ex fidanzata Emily che gli consegna alcuni file compromettenti che riguardano il proprietario di una nota industria farmaceutica. Insieme al capo dello studio legale per cui lavora, Ben decide di dichiarare guerra al famoso industriale, accusato anche di omicidio. La casa delle stati lontane è ambientato nel 1995 in Israele. Finalmente sembra che sia arrivata la pace e nella cittadina di Atlit, tre sorelle si ritrovano nella casa della loro infanzia. Cali, Darrell e Asia devono infatti vendere la casa ereditata dai genitori, ma durante la convivenza riemergono le risate e i piccoli dissapori di un tempo. Il 4 novembre dello stesso anno il processo di pace viene annientato, ma le tre sorelle continuano a sperare in un futuro migliore. Mamma vede Penelope Cruz nei panni di Magda, una madre single molto coraggiosa. La donna, un'insegnante che vive con il figlio piccolo, scopre di essere nuovamente incinta. Ma insieme a questa notizia felice, ecco che si ripresenta il cancro al seno che l'aveva tormentata anni prima. Anche se sa di avere solo pochi mesi di vita, Magda decide di vivere al meglio il tempo che le rimane e di non far pesare a chi la circonda la sua malattia. Queste erano le uscite al cinema più interessanti della settimana. Vi diamo appuntamento a settimana prossima con un nuovo podcast. Ciao a tutti da GameSurf!